Quando abbiamo parlato della mobilità fra le diverse regioni, almeno per quello che riguarda la Campania, abbiamo fatto riferimento a un dato preciso, qual è il numero delle persone contagiate in un territorio o in un altro. Ed è del tutto ragionevole che se abbiamo un territorio nel quale abbiamo un numero altissimo ancora di contagiati, questo territorio debba avere delle limitazioni per quanto riguarda la mobilità. Quindi è un problema molto semplice e molto di merito. Non c'entrano i rapporti nord-sud, le guerre di religione. Ancora oggi noi non abbiamo da parte del Governo la definizione di un criterio semplice, indiscutibile, che consenta di attivare la mobilità interregionale. Ci auguriamo ovviamente che il Governo nazionale faccia delle scelte ragionevoli e sempre con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione dei focolai di contagio in tutta Italia. Questo è tutto. Per quello che ci riguarda ovviamente noi cercheremo di tutelare fino in fondo la situazione epidemiologica della nostra regione. Cercheremo di evitare la diffusione di contagio e di focolai. Io sono fra quelli che continuano ad avere una grande preoccupazione. Vedo troppa gente ormai completamente tranquilla. Il problema dell'epidemia ormai è stato rimosso dappertutto. Io non la penso così. Continuo ad avere una preoccupazione che non si diffonda il contagio. Comunque vedremo quello che decide il Governo e responsabilità del Governo. Sarà poi nostro dovere cercare di tutelare comunque al meglio la nostra comunità per evitare la diffusione di focolai. È giusto il caso di ricordare che la Regione Campania è l'unica regione che ha difeso con determinazione l'unità nazionale. Credo che siano volgari, stupide e intollerabili guerre di religione fra nord e sud. Con questi chiari iluna. Ma ricordo che la Regione Campania ha difeso sempre, quando si parlava di autonomia differenziata, ma anche una settimana fa, quando il Governo ha delegato le Regioni a stabilire se c'era l'epidemia o meno, ha difeso sempre l'unità d'Italia. E dunque ne approfitto anche in questa occasione per lanciare un messaggio di solidarietà agli amici in particolare della Lombardia, di solidarietà al collega amico Presidente Fontana per le minacce che ha avuto, e ricordare anche che noi siamo gemellati perfino con Milano perché abbiamo un gemellaggio in atto fra l'ospedale Cardarelli di Napoli e l'ospedale Niguarda in un clima di grande collaborazione, amicizia e rispetto reciproco. Grazie. Grazie.